L'area Ex Necchi potrebbe essere una delle iniziative pilota della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana. Durante la discussione sul bilancio 2020 del Pirellone, infatti, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal consigliere Ruggero Inverninzi per l'attuazione di un tavolo tecnico che supporti il progetto di bonifica e riqualificazione. Proprio grazie alla legge di rigenerazione urbana, il sindaco di Pavia, in data 4 novembre, ha presentato la richiesta di promozione di un accordo di programma per questo obiettivo e quindi io impegno il consiglio e la giunta ad organizzare un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo di programma coinvolgendo il comune di Pavia e tutti gli attori interessati per le verifiche e le valutazioni preliminari e la direzione generale del territorio per la valutazione di un possibile progetto pilota della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana. Inverninzi, insieme al consigliere leghista Mura, ha poi ottenuto un inserimento a bilancio di un milione di euro l'anno per i prossimi tre anni per finanziare i collegi. Gli stanziamenti andranno in proporzione al numero di posti a disposizione degli studenti. Si tratta di una misura strategica e fondamentale per l'Università di Pavia e per tutto il suo sistema di collegi e della vita degli studenti che li frequentano, hanno detto Mura e Inverninzi. Quest'ultimo, in qualità di presidente della Commissione Agricoltura, ha inoltre fatto inserire a bilancio due misure a favore del comparto. 200 mila euro per iniziative di microcredito per le aziende che hanno subito avversità atmosferiche e il proseguimento della partnership fra la Regione e le Interisi per un progetto volto a migliorare l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione e a ridurre i gas serra prodotti dalle coltivazioni. Ha un obiettivo proprio di valutare questo tipo di impatto che ci può essere sia sui gas serra e sulla necessità di acqua, proprio per cercare di utilizzare l'acqua in un modo utile che dia molto meno impatto e che dia una produzione adeguata nonostante l'uso diminuito dell'acqua stessa.